Drop set di bicipiti sulla panca inclinata. Dovete svolgere 5 ripetizioni con un carico alto, andando a cedimento muscolare. Una volta che siete arrivati alla quinta ripetizione e non ce la fate più, la chiudete, mettete al posto il peso, prendete immediatamente un peso più leggero e dovete fare anche qui 5 ripetizioni fatte a cedimento. A cedimento, sto facendo finta ragazzi. E poi prendete ancora un peso più leggero e anche qui andate a svolgere 5 ripetizioni a cedimento in cui arrivate nell'ultima, esausti, e lo mettete a posto. Mi raccomando, in questo esercizio, sempre massimo allungamento e massima contrazione ad ogni ripetizione. Potete sia farlo con il palmo in avanti, oppure con la presa a martello, oppure partendo con una presa a martello e chiudere ruotando il polso. In questo modo. Potete svolgerlo in questi tre metodi.